Eneba vi augura buone feste con una sezione nuova per le vacanze con titoli fortemente scontati sia su PC che su Playstation e Xbox, ci sono ovviamente anche gli abbonamenti per le console ma anche per PC a prezzi ribassati e un giveaway speciale per Natale del valore di 1000€ suddiviso in 50 card da 20€, potete tentare la fortuna e partecipare. Come sempre ricordate di inserire il codice promozionale di Armax prima dell'acquisto per avere un ulteriore sconto, tutti i link del caso li trovate in alto nella descrizione del video. Grazie a tutti! 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 Siamo saldati? Abbiamo preso l'obiettivo box. Siamo saldati? Siamo saldati? Siamo saldati? Siamo saldati? Sì?